Buonasera a tutti e benvenuti ancora sul mio canale per conseguire la patente B. Oggi spiegheremo il capitolo dodicesimo. Spazio di arresto di un veicolo, spazio di frenatura, spazio totale di arresto e la distanza di sicurezza. Articolo 149 del codice della strada. A cura di Mavilla Ernesto. Spiegheremo lo spazio di arresto di un veicolo. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza. Specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e davanti a qualsiasi ostacolo prevedibile. Vedete? Per evitare appunto il tamponamento. In questo schema abbiamo la reazione, la frenatura e l'arresto. Quindi lo spazio o distanza, lo spazio di arresto, è la somma di due tratti di strada. Il primo tratto è quello percorso dal veicolo durante il tempo di reazione del conducente, cioè tra il momento della percezione di una situazione di pericolo a quello di inizio della frenata, cioè quando va a congiungere il piede sociale del freno di servizio. E infatti il veicolo nel secondo tempo ha un altro spazio chiamato spazio di frenatura o tempo. È la stessa cosa. Quindi infatti in quei lassi di tempo, in questi due tempi, si percorre la reazione e la frenata. Il secondo infatti, il secondo tratto, spazio di frenatura, è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo, quindi durante l'effettiva azione frenante. Come vediamo qua dallo schema, vedete lo spazio totale di arresto del veicolo sarà pari al tempo di reazione e al tempo di frenatura. Come potete vedere in questo slide che ho creato mediante la Mini Cooper, vediamo che nel primo caso c'è la percezione del pericolo, cioè la prontezza dei riflessi del conducente, nella quale grazie alla sua visibilità comincia a capire cosa stia accadendo. Poi dopo interverrà sul pedale del freno. Quindi si presume che la percezione del pericolo, il tempo di reazione sia almeno un secondo. Vedete quel quadrato giallo? Almeno un secondo per poi intervenire sul pedale del freno. Quando il veicolo è sottoposto all'azione frenante, percorrerà un altro tempo che offre spazio, chiamato appunto spazio di frenatura. Nella linea rossa, vedete, vuol dire che lo spazio di frenatura è aumentato. Io per evitare che si prolunghi questo spazio di frenatura devo evitare in ogni caso il bloccaggio delle ruote. Infatti se il tempo di reazione si prolunga, invece di un secondo ci vado a mettere 4-5 secondi per capire il pericolo, dopo non arriverete nemmeno a raggiungere il pedale del freno che già gli state addosso. Oppure una frenata brusca è causa anche del bloccaggio delle ruote e quindi si prolunga questo spazio. Peggio ancora se sull'asfalto c'è la graniglia, pietrisco, ghiaia, neve, ghiaccio, sabbia, pioggia, eccetera. Ok? Quindi questo è lo schema essenziale per capire lo spazio di arresto di un veicolo. E infatti c'è la percezione del pericolo, inizio della frenatura e quindi abbiamo spiegato lo spazio di frenatura. Adesso vediamo lo spazio percorso durante il tempo di reazione. Lo spazio percorso durante il tempo di reazione dipende dalla velocità del veicolo e dalle condizioni psicofisiche del conducente, cioè la prontezza dei riflessi. Il tempo di reazione medio di un conducente in buone condizioni è di circa un secondo. La distanza percorsa in tale tempo può essere approssimativamente calcolata dividendo la velocità per 10, moltiplicandola poi per 3 e riducendola di poco perché con tale metodo si ottengono valori leggermente superiori. Quindi in questo slide ad esempio in un secondo si percorreranno circa a 50 km orari quindi se io viaggio a 50 km orari applicando la formula 50 diviso 10 per 3 volendo semplificare basta togliere lo 0 dal 10 quindi 5 diviso 10 fa 5 moltiplicandolo col prodotto di 3 quindi uguale a 15. però sulle schede dei quiz vi esce circa 14 metri. La domanda è esatta perché si avvicina al risultato esatto. Anche nel secondo caso se si viaggia a 100 km orari quindi in un secondo se si viaggia a 100 km orari avremo percorso circa 30-28 metri. Infatti 100 diviso 10 per 3 fa 30 circa 28 e ci troviamo a 130 km orari in un secondo abbiamo percorso 39-36 metri e a 150 km il limite massimo che possiamo sviluppare su un'autostrada a 4 corsie 150 diviso 10 per 3 15 per 3 45 metri quindi scarsi circa 42 metri. Queste sono le domande vere nei quiz. Quindi le domande vere sono 14-28-36-42 circa all'incirca ovviamente devono avvicinarsi al risultato esatto. Se la domanda nei quiz vi dice che viaggiando a 50 km orari in un secondo abbiamo percorso 40 metri è falso perché se andiamo a 50 km all'ora 5 per 3 fa 15 quindi 14-15 l'importante è che si avvicina al risultato esatto. E quindi abbiamo spiegato lo spazio percorso durante il tempo di reazione grazie a questo slide che appunto vi ho creato sempre io. Adesso vediamo lo spazio di frenatura. Quindi mediante questo slide abbiamo capito in un secondo se si viaggia ad una certa velocità quanti metri a secondo il veicolo tende a percorrere. Questa nozione ci sarà molto utile poi dopo quando spiegheremo la distanza di sicurezza. E infatti questo spazio percorso durante il tempo di reazione varia con la velocità varia mediante il tempo di reazione per evitare collisioni con il veicolo che ci precede. E poi c'è l'aderenza vedete l'aderenza è inversamente proporzionale allo spazio di frenatura nel senso che se la strada è asciutta rugosa pulita l'aderenza è maggiore e la frenatura è minore perché l'aderenza sarebbe il contatto tra la ruota e asfalto e la frenatura è il tempo che percorre il veicolo ad arrestarsi. Quindi se invece metti caso che la strada è bagnata innevata e ghiacciata ci sarà una scarsa aderenza sul terreno quindi diminuisce l'aderenza e offre più spazio di frenatura quindi aumenterebbe lo spazio appunto di frenatura. E parliamo appunto adesso di questo spazio di frenatura. Lo spazio di frenatura minimo si verifica nelle migliori condizioni di aderenza fra pneumatici e strada. E' importante che il piede non deve appoggiare vicino alla frizione. Vedete dovete premere solo il pedale del freno. Se il piede sinistro sta vicino alla frizione non va bene e non si deve frenare ad impulsi altrimenti aumenta lo sbandamento del veicolo specie se c'è una scarsa aderenza. E poi è sbagliato che in velocità il piede sinistro rimane ancora sulla frizione e frenate col piede destro. Per frenare dovete usare sempre il piede sinistro non quello destro. Vedete? Questo è l'esempio in cui anche premendo sia l'acceleratore che il freno il veicolo sbanda. Quindi per arrestare il veicolo nello spazio minimo non dovete appoggiare col piede sulla frizione. Qui invece è una manovra per scansare un veicolo di faccia. Quello che qui succede le immagini parlano chiare. Quindi lo spazio di frenatura minimo si verifica nelle migliori condizioni di aderenza fra pneumatici e strada. Quindi per arrestare il veicolo nello spazio minimo il conducente deve evitare di caricare il veicolo oltre il limite di massa consentita. Come possiamo vedere nelle immagini il carico non sistemato bene o eccessivo vedete anche da qui e poi curare la manutenzione degli pneumatici verificando soprattutto il corretto spessore degli intagli del battistrada. Possiamo constatare anche con una monetina in modo che si incastra e ci sarà almeno lo spessore minimo per legge consentito. Lo spessore minimo per legge del battistrada dovrà essere almeno 1,6 mm di spessore. Deve inoltre intervenire con gradualità sul pedale del freno evitando in ogni caso il bloccaggio delle ruote perché tale condizione allunga lo spazio di frenatura e non permette alcun cambiamento di direzione del veicolo rispetto a quella tenuta all'inizio della frenata. Per supplire alla scarsa abilità di molti conducenti nel dosare l'azione frenante i veicoli di recente costruzione vengono sempre più spesso dotati di sistemi di antibloccaggio in frenata. sarebbe l'ABS Anti-Breaking System è un sistema elettronico che evita il bloccaggio delle ruote. Infatti se mi trovo nel caso di una frenata d'emergenza e quindi vado a piggiare violentamente sul pedale del freno andrà a pulsare a dare delle pulsazioni sul pedale del freno evitando il bloccaggio delle ruote. Questo sistema si chiama ABS. Il valore dello spazio di frenatura dipende dal quadrato della velocità e dall'aderenza tra pneumatico e strada. Quindi ad esempio lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità raddoppia oppure sembra lo spazio di frenatura diventa 9 volte maggiore se la velocità si triplica oppure lo spazio di frenatura diventa 16 volte se la velocità quadruplica eccetera eccetera quindi che cosa significa che se noi raddoppiamo la velocità per frenare il veicolo occorre una forza 4 volte maggiore prendi l'esempio che fai 2 per 2 fa 4 quindi il quadrato della velocità se invece la triplichiamo questa velocità invece di andare a 30 all'ora andiamo a 90 km 3 orari allora ci sarà uno spazio di frenatura 9 volte maggiore e via dicendo quindi bisogna fare il quadrato della velocità l'aderenza è espressa tramite un coefficiente che è molto elevato su una strada ruvida e asciutta con pneumatici nuovi o quasi infatti questo è un pneumatico nuovo mentre invece si riduce su strada asfaltata bagnata o con strada asciutta e pneumatici usurati ed è molto ridotto su strada sdrucciolevale per ghiaccio neve fango sabbia ghiaietto e specialmente con pneumatici eccessivamente usurati cioè lisci altro fattore che condiziona la lunghezza dello spazio di frenatura è la pendenza della strada infatti qua siamo in salita del 35% quindi una salita molto ripida e la pendenza è espressa in percentuale sul segnale stesso quindi qua diminuisce notevolmente lo spazio di frenatura quindi questa pendenza soprattutto anche quando c'è la discesa perché la forza di gravità può aiutare a rendere più difficoltosa la frenatura a seconda che si stia viaggiando in queste pendenze la salita o la discesa appunto riassumendo lo spazio di frenatura aumenta se l'aderenza tra pneumatico e asfalto è bassa ad esempio perché la strada è innevata o bagnata e a parità di aderenza aumenta se la strada è in discesa mentre diminuisce se la strada è in salita ovviamente dipendendo lo spazio di frenatura da pure caratteristiche fisiche e meccaniche del veicolo esso non viene influenzato dalla prontezza dei riflessi del conducente mi raccomando i quiz lo spazio di frenatura non verrà influenzato dalla prontezza dei riflessi del conducente adesso vediamo lo spazio totale di arresto come si è visto lo spazio totale di arresto di un veicolo è la somma di due tratti di strada percorsi in differenti condizioni e per tale ragione dipende da numerosi fattori la prontezza dei riflessi del conducente la velocità del veicolo e le condizioni di aderenza tra pneumatico e strada usura dei pneumatici condizioni dell'asfalto eccetera alla luce di ciò si può affermare che lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità aumenta se la strada è innevata o è coperta di fango aumenta se i pneumatici sono usurati diminuisce invece se migliora la prontezza dei riflessi del conducente per non costituire pericolo per gli altri utenti della strada la distanza di visibilità deve essere sempre superiore allo spazio totale di arresto e adesso vediamo la distanza di sicurezza fra veicoli durante la marcia tutti i veicoli devono tenere rispetto al veicolo che precede non che segue che precede vuol dire il veicolo che abbiamo dinanzi una distanza di sicurezza tale da riuscire a fermare in tempo il veicolo in caso di pericolo evitando collisioni con il veicolo che precede quindi il tamponamento la distanza di sicurezza è quindi la minima che si deve mantenere dal veicolo che ci precede in modo da evitare tamponamenti anche prima di iniziare un sorpasso e nel suo valore minimo deve essere almeno uguale alla distanza percorsa durante il tempo di reazione che si considera mediamente di un secondo ma che aumenta in relazione alla scarsa attenzione esperienza e stato psicofisico del conducente pertanto dai calcoli già esposti nel paragrafo relativo allo spazio percorso durante il tempo di reazione che abbiamo fatto prima si ottiene che approssimativamente la distanza minima di sicurezza deve essere come in questo slide se si viaggia a 30 chilometri sarà di circa 9 metri 3 per 3 9 quindi si fa sempre 30 diviso 10 per 3 se si viaggia a 50 chilometri orari è di circa 14 metri se si viaggia a 100 chilometri orari è di circa 28 metri se si viaggia a 130 chilometri orari è di circa 36 metri se si viaggia a 150 chilometri orari è di circa 42 metri avete notato qualcosa abbiamo notato che è lo stesso calcolo durante il tempo di reazione cioè lo spazio percorso nel tempo di reazione che era di un secondo infatti la domanda nei quiz verrà riportata che la distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre in velocità infatti in un secondo se io vado a 30 chilometri orari quanti metri percorrerò 9 metri e se io mantengo appunto 9 metri viaggiando a 30 chilometri orari c'ho padronanza del veicolo ho il tempo di reazione adatto per arrestare il veicolo e avrò lo spazio necessario per arrestare il veicolo evitando il tamponamento con il veicolo che ci precede poniamo il caso che viaggiando a 50 chilometri orari invece di mantenere 14-15 metri mantengo 7 metri che cosa succede da 7 a 14 metri c'è una grande differenza stiamo fuori di 7 metri ce la facciamo ad arrestare il veicolo nello spazio minimo di arresto non ce la facciamo e quindi arresteremo il veicolo in uno spazio così ridotto dove per forza le ruote si bloccheranno e altri 7 metri andremo a sbattere all'ostacolo che avremo dinanzi questa è la teoria della distanza di sicurezza rapportata anche allo spazio totale di arresto di un veicolo quindi ovviamente dipende anche da altri fattori la distanza di sicurezza se il veicolo che precede trasporta un carico sporgente poco stabile vedete voi dovete aumentare la distanza di sicurezza è un rischio stargli troppo vicino no? vi pare? oppure se si marcia in colonna la visibilità è scarsa o non si può escludere che un veicolo davanti si arresti all'improvviso la distanza di sicurezza va aumentata e dunque può risultare maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione e ciò per evitare appunto i tamponamenti a catena come vediamo in figura comunque in qualunque caso sia difficile valutare il comportamento del conducente che ci precede è bene aumentare la distanza di sicurezza la distanza di sicurezza è commisurata cioè dipende dalla velocità del veicolo ma non dalla marcia innestata attenzione ai quiz dalle condizioni del traffico e del fondo stradale al tipo e stato di efficienza del veicolo quindi in particolare dei suoi freni di servizio alle condizioni all'aderenza degli pneumatici all'entità del carico alla prontezza dei riflessi tempo di reazione e le condizioni psicofisiche concentrazione attenzione condizioni di salute del conducente in particolare si ricordi che la distrazione causata ad esempio dall'accensione del cellulare dall'accensione di una sigaretta dalla ricerca dei comandi della radio navigatore satellitari o altri apparecchi elettronici anche se della durata di pochi secondi può essere causa di incidenti alle condizioni plano altimetriche cioè variazioni di pendenza della strada alle condizioni atmosferiche e di visibilità come si vede la distanza di sicurezza non può essere una distanza fissa o che si debba rispettare solo al di sopra di una certa velocità di marcia né ha alcuna influenza l'eventuale limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede inoltre non influiscono sulla distanza di sicurezza i limiti di velocità dei veicoli applicati cioè quei veicoli che non possono fare più di 70-80 km orari poi ancora non influisce sulla distanza di sicurezza l'alimentazione del motore che sia benzina gasolio gpl metano gas eccetera né la sua potenza e né la sua cilindrata le dotazioni del veicolo quindi potenza cilindrata ad esempio la presenza del servosterzo quindi non ci azzecca niente la presenza del servosterzo non c'entra nemmeno un bel niente al numero di marce del cambio di velocità una domanda molto frequente nei quiz d'esame quindi che la macchina ha o 5 marce o 6 marce o 3 marce non influisce un bel niente sulla distanza di sicurezza nemmeno la sagoma quindi nemmeno la lunghezza del veicolo nemmeno la larghezza sempre del nostro veicolo o di quello che ci precede nemmeno non influisce nemmeno sull'ampiezza della carreggiata e nemmeno sul numero di corsie di cui è composta perché perché ognuno sta per fatti suoi ognuno manterrà la distanza di sicurezza come ogni corsia a fila indiana cioè rispetto al veicolo che ci precede quindi domande scritte che la distanza serve per evitare il tamponamento frontale veicolo che segue scontro laterale scontro frontale su tutte false perché noi dobbiamo evitare il tamponamento con il veicolo unico che abbiamo dinanzi a noi quindi si chiama il veicolo che ci precede e adesso passiamo alla distanza di sicurezza fra i veicoli in particolari situazioni quando siano in azione macchine sgombraneve o spanditrici di sale i veicoli che li seguono devono procedere con la massima cautela e la distanza di sicurezza rispetto a tali macchine deve essere di almeno 20 metri sia per la spanditrice di sale sia per lo sgombraneve entra invece fuori dai centri abitati su strada ad unica corsia per senso di marcia e quando c'è anche l'apposito divieto a distanza di sicurezza fra i veicoli merci oltre 3 tonnellate e mezzo cui sia stato imposto il divieto di sorpasso è pari di almeno 100 metri quindi queste sono le uniche distanze fisse obbligatorie 20 metri sgombraneve e spargisale e 100 metri tra i veicoli superiori a 3 tonnellate e mezzo cari amici e cari patentandi e cari allievi e siamo giunti alla fine di questo capitolo dodicesimo della patente B abbiamo spiegato lo spazio di arresto di un veicolo lo spazio di frenatura lo spazio totale di arresto e la distanza di sicurezza un argomento molto difficile riguardante le schede d'esame e anche per argomento ti lascio la mia email per qualsiasi chiarimento anche nei commenti iscriviti al mio canale e la mia email è erniarts chiocciola gmail punto com grazie per la cortese attenzione a voi tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti